Un grande evento al Teatro Verdi di Monte San Savino il 15 aprile alle 21.30 c'è uno spettacolo da non perdere, uno spettacolo che vede la collaborazione tra le donne fantastiche allora iniziamo da Piatuccitto e Sorelena e poi la Federica Lisi allora cosa vi ha messo insieme? Allora noi siamo in una missione speciale in nome di Dio per la ristrutturazione del Santuario delle Vertighe di Monte San Savino e con questo spettacolo io e lei che poi parlerà Federica Lisi è un progetto di ristrutturazione del Santuario, conservare per tramandare abbiamo praticamente, ci è stato affidato questo luogo meraviglioso abbiamo bisogno di fondi perché l'opera è veramente grandiosa, è un santuario millenario io ho chiesto aiuto a mia sorella Pia, sorella di sangue per realizzare questo spettacolo di beneficenza per poter raccogliere fondi e per sensibilizzare questa meravigliosa opera che è di custodire le opere d'arte che abbiamo nel nostro territorio Allora Federica, dalla tua storia nasce lo spettacolo ma è una storia molto complicata di un incontro fra voi due spettacolare, ce lo puoi dire in due secondi? Ma si sono unite due storie diverse ma uguali come sono tutte quante le storie noi andiamo io a leggere Pia, a cantare, emozione quindi cantiamo amore per dare amore al Santuario Venite che il bene fa sempre bene dentro il cuore Teatro Verde di Monte San Savino 15 aprile alle 21.30, non mancate Grazie Grazie